bentornato gutier bentornata continuando a descrivere la sezione impostazioni di windows 10 è giunto il momento di parlare del pannello di personalizzazione tramite questo pannello puoi personalizzare il desktop in termini di sfondo colori temi immagini schermata di blocco del menu start della barra delle applicazioni ed altre opzioni come accedi direttamente dal pulsante start individua l'icona ingranaggio e nella finestra che si apre cerca il pulsante appunto personalizzazione otterrai una lista del tipo sfondo colori schermata di blocco temi start e barra delle applicazioni dalla prima sezione appunto sfondo potrai ottenere subito un'anteprima di quel che andrai ad impostare in questa sezione potrai impostare un'immagine come sfondo oppure un colore a tinta unita una presentazione con cambio immagine temporizzato oppure casuale sceglierà anche la posizione il metodo di visualizzazione delle immagini da un menu a tendina con la sottosezione colori potrai impostare il colore dello sfondo delle piastelle del menu start e se non vorrai perderci tempo cliccare su un segno di spunta per impostare automaticamente un colore tramite dei cursori potrai giocare con le trasparenze nel menu start della barra delle applicazioni del centro notifica oppure rendere lo sfondo della barra del titolo quello in alto colorata ed effettuare altre scelte della modalità di visualizzazione la sottosezione schermata di blocco ti consente di scegliere i parametri come precedentemente fatto per il desktop ma in questo caso per la schermata di blocco un cursore abilita le informazioni del sistema anche quando il desktop è bloccato in modo da ottenere eventuali notifiche dello stesso altri pulsanti relative alle app ti permettono di scegliere un'applicazione di cui vuoi visualizzare magari lo stato dettagliato mentre per altre soltanto il riepilogo dello stato un altro pulsore ti consente di replicare l'immagine dello sfondo anche nella schermata di blocco con altri pulsanti potrai mantenere attiva l'assistente virtuale anche se sei nella schermata di blocco e impostare dei tempi per il blocco dello schermo oppure per il passaggio alla sospensione per il computer o ancora per gestire i tempi affinché si attiva automaticamente il salva schermo invece con il pulsante temi potrai scegliere il tema da applicare al desktop con un'immagine come già descritto oppure altre tipologie di visioni fornite dalla magsoft sempre in base alla scelta dei temi la sottosezione start presenta vari cursori abilitano o meno un maggior numero di riguardi nel menu start oppure suggerimenti occasionali o altre funzionalità all'interno del menu stesso come informazioni le app utilizzate o installate di recente abilitare la visualizzazione a schermo intero oppure scegliere altre cartelle da visualizzare nel menu oltre quelli che già troverai presenti come pulsante di arresto impostazioni oppure il tuo account qui appunto una serie di cursori che ti permette di scegliere cosa visualizzare in quel menu ultima sezione riguarda la barra delle applicazioni con anch'essa dei cursori potrai bloccare o occultare la barra delle applicazioni scegliere i dimensioni dei suoi pulsanti visualizzare le notifiche delle icone presente nella barra delle applicazioni la posizione della barra delle applicazioni se in alto basso a destra a sinistra oppure scegliere il metodo della visualizzazione delle icone nella barra delle applicazioni l'area di notifica riguarda che tipi di icone potrai visualizzare nella barra delle applicazioni oppure scegliere di attivare o meno alcune icone di sistema puoi anche attivare la visualizzazione della barra delle applicazioni solo sul desktop principale o se ne facessi uso anche su altri desktop e potrai decidere se visualizzare tutte le icone su tutti i monitor nella stessa maniera quindi in maniera completa oppure combinarli negli altri monitor per ridurre lo spazio occupato dalle stesse ecco la zona pratica andiamo subito sul pulsante start e individuiamo il pulsante dell'ingranaggio con la scritta impostazioni clicchiamoci sopra dopo di che individuiamo il pulsante personalizzazione per andare a personalizzare appunto il nostro desktop nella prima sezione qui tu hai una finestra anteprima che ti permetterà di visionare in anteprima ciò che andrai ad impostare come ad esempio l'immagine che potrai scegliere o da quelle presentate dalla microsoft e come possiamo vedere è in tempo reale parcheggiamo e andiamo a visionare quanto impostato oppure potrai scegliere una tinta unita in base alle tue preferenze un colore che più ti piacerà o infine una presentazione nella quale dovrai ovviamente selezionare da una cartella un certo numero di immagini selezionare il tempo che intercore tra il passaggio di un'immagine e l'altra e se eventualmente vuoi tramite un cursore abilitare la riproduzione casuale andiamo a sceglierci invece una bella immagine per il nostro desktop dopo di che potrai scegliere anche una posizione ossia se riempire tutto quanto alla schermata adattarla se eventualmente fosse un'immagine piccola a quel punto potrà essere deformata come l'allungamento oppure affiancare un certo numero di immagini l'una all'altra oppure centrarla se vuoi portarla al centro qualora fosse un'immagine magari piccola o estenderla completamente a tutto schermo ricordati che in base alla scelta che effettuerai potrai anche avere una deformazione dell'immagine se ad esempio è una foto la seconda sezione permette di scegliere i colori anche qui potrai scegliere però un'anteprima relativa allo sfondo del menu start che in questo caso come puoi vedere è diciamo sul celeste andiamolo a cambiare mettiamolo sul verdino come puoi vedere in tempo reale avrai una variazione sul tema se non puoi perdere tempo puoi selezionare automaticamente il colore principale da scegliere per lo sfondo del menu start potrai anche decidere di rendere trasparente il menu start la barra delle applicazioni e del centro notifiche attivando questo pulsante come potrai vedere ho una sovrapposizione in trasparenza qualora non lo volessi attuare togliendolo non avrai più il gioco trasparenze ma andrà a sovrapporsi completamente al desktop questo è valido anche per la barra delle applicazioni per il centro notifiche il colore che andrai a scegliere potrà essere immediatamente impostato oltre che al menu start anche alla barra del titolo in alto oppure alla barra delle applicazioni ancora scegliere se vuoi visionare la modalità in chiaro oppure in scuro avendo come puoi ben vedere un immediato riscontro puoi anche decidere di gestire il contrasto qualora fosse possibile da questa sezione la sezione schermata di blocco ti permette di decidere cosa evidenziare quindi quale immagine evidenziare nella schermata di blocco potrai scegliere tra un contenuto già predisposto dalla microsoft oppure scegliere una tua immagine tra quelle presentate oppure se ne hai tu un archivio o anch'essa una presentazione aggiungendo una cartella lasciamo i valori standard come definito dalla microsoft potrai anche scegliere tra le varie applicazioni quale può essere presente in maniera dettagliata all'interno della schermata di blocco tra quelle mostrate oppure sceglierne un'altra per avere invece un'informazione molto sommaria come informazioni di repilogo sul suo stato nella schermata di blocco tramite il cursore di sotto potrai scegliere se attivare o meno la possibilità di ottenere l'immagine che hai scelto nello sfondo anche nella schermata di blocco oppure tramite altri pulsanti andare a far sì che l'assistente vocale cortana rimanga attiva anche quando ti trovi nella schermata di blocco oppure disattivarla se non vorrai potrai anche scegliere un tempo affinché lo schermo si disattivi entro un certo periodo di tempo oppure disattivarlo completamente oppure far sì che il computer passi in modalità standby entro un certo periodo di tempo oppure affatto l'ultimo pulsante va ad impostare dei parametri relativi allo screensaver scegliere il tuo screensaver in base alle necessità e decidere il tempo affinché questo screensaver entri in atto posizioniamo su nessuno in modo da ripristinare le condizioni precedenti altra sezione quella dei temi puoi scegliere il tema da visualizzare sempre nel desktop tra quelli forniti altra schermata pulsante start ti permette di mostrare tramite dei cursori più riguardi all'interno del menu start qualora ce ne fosse bisogno come puoi vedere in questo caso una semplice riduzione perché questa versione non è stata molto ampliata in termini di funzionalità tramite questo cursore potrai decidere se mostrare occasionalmente suggerimenti nel menu start oppure mostrare le applicazioni più utilizzate o installate più recenti in questa sezione tramite questo e quest'altro cursore puoi anche visionare il menu start a schermo intero qualora tu lo voglia a me personalmente non piace quindi lo disattiviamo potrai anche tramite questo cursore andare a visionare nelle jump list in start o nella barra delle applicazioni gli elementi che sono stati aperti ultimamente disattiviamo anche questa possibilità ultima sezione la barra delle applicazioni ti permette tramite dei cursori di impostare il blocco della barra delle applicazioni che attualmente è dinamica azionando il blocco non hai più possibilità di muovere la barra delle applicazioni oppure potrai decidere di mostrare o nascondere automaticamente la barra quando il cursore si posiziona nei pressi di essa oppure nasconderla se vuoi utilizzare il tuo dispositivo in modalità tablet come fosse un tablet un dispositivo portatile tramite questo cursore puoi decidere di rimpicciolire le dimensioni delle icone qualora fosse molto affollata la barra delle applicazioni tramite questo cursore potrai abilitare la funzione aeropic che in pratica ti consente di andare a visualizzare il desktop quando posizioni il mouse sul lato destro della barra delle applicazioni e tornare alla visualizzazione di ciò che stai facendo tramite questo cursore potrai abilitare o meno la sostituzione dei comandi powershell in luogo del comando prompt quando clicchi con il pulsante destro con il mouse in questo caso o il prompt dei comandi abilitando la funzione powershell otterrai la sostituzione di questi pulsanti ma questo è utile se sei anche uno sviluppatore questo cursore ti permette di abilitare o disabilitare le notifiche sui pulsanti presenti nella barra delle applicazioni potrai anche decidere di spostare la barra delle applicazioni che normalmente è posizionato in basso spostandola a destra oppure in alto o alla sinistra in base alle tue necessità d'uso tramite questo menu a tendina puoi decidere se combinare i pulsanti nella barra delle applicazioni mostrando soltanto le icone oppure una descrizione oppure mostrare le icone se si riduce lo spazio quindi se è necessario oppure mai mettiamo soltanto sempre mostra solo icone nella zona più in basso trovi area di notifica puoi selezionare le icone da visualizzare nella barra delle applicazioni oltre quelle presenti a rete volume potrai anche far visionare tutte le icone presenti in questa sezione in modo da non impazzire qualora ce ne fossero tanti per andarle a individuare c'è un altro pulsante che ti permette di attivare o disattivare le icone di sistema a te la scelta in base all'uso che vorrai farne del tuo sistema operativo torniamo ancora in basso se hai la possibilità di visionare più schermi tramite questo cursore potrai abilitare la visione della barra delle applicazioni anche sugli altri monitor e scegliere la metodologia di visualizzazione puoi visualizzare la stessa barra delle applicazioni su tutti i monitor oppure scegliere di visualizzare la barra delle applicazioni sul monitor principale e sugli altri monitor andare a visionare soltanto quelli relativi alla finestra aperta in quello specifico monitor oppure visualizzare soltanto nella barra delle applicazioni quella della finestra aperta sui monitor secondari potrai anche decidere cosa effettuare delle varie icone se averle sempre tutti in mostra oppure combinarli se è necessario quindi se non hai più spazio oppure lasciarle sempre in estesa come abbiamo visto poc'anzi bene nella prossima lezione ancora spiegazioni della sezione impostazione di windows 10 ora come sempre un forte saluto ciao a presto da carlo e dalla prossima